Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 24 aprile 2017, siamo in diretta alle 7.30 come sempre, buon inizio settimana a tutti i cari telespettatori di Fano TV E allora cominciamo questa settimana che è caratterizzata anche da un ponte, quello che si prospetta da oggi perché oggi è il 24, domani è già di nuovo festa per molti ma non per tutti Allora andiamo a vedere il santo di oggi, oggi è San Fedele, San Fedele sacerdote, il sole è sorto alle 6.11 e tramonterà due minuti dopo le 8 di questa sera Il tempo per oggi, il tempo per oggi è un cielo sereno con poche nuvole, il tempo per il 25, questo ponte del 25 di aprile sarà comunque in prevalenza soleggiato Come indica Trebimeteo.it, l'alta pressione infatti manterrà condizioni di stabilità e prevalenza di bel tempo con temperature per fortuna in graduale rialzo Pur con il passaggio di tanto in tanto di qualche banco di nuvole sparse ed innocue, specie nelle ore pomeridiane di oggi sul comparto appenninico abruzzese Ma comunque insomma quello che ci interessa e lo vediamo dalla grafica che è molto più intuitiva di tutto il resto Ecco vedete oggi, questo è domani il 25 di aprile, il sole che splende su tutta la regione Marche e vediamo anche il giorno dopo Ecco c'è un po' di vento con nuvolosità e vedete questa è la notte, la notte del 26 che ci porterà probabilmente un po' di pioggia ancora per il giorno di giovedì C'è la morte, la morte improvvisa di un motociclista di 44 anni in primo piano sui quotidiani di oggi Così come sui quotidiani di ampio respiro regionale c'è la morte del ciclista Scarponi Cominciamo dal resto del Carlino, questa è l'edizione di Pesaro E' la tragedia di un padre quella che viene raccontata con la fotonotizia in primo piano Sulla Pecchiese è morto Gaetano Leone, 44 anni, residente Valle Foglia, forse stroncato da un infarto Era in sella alla sua motocicletta, la sua Yamaha, lascia tre figli Poi più in alto, vedete, sopra e sotto la testata, mare e ponti, quasi tutto pronto I bagnini cominciano dai ristoranti, gli stabilimenti balneari sono a caccia della prima vera ondata turistica della stagione Addio invece a Tittarelli, signore del ROF, il Rossini Opera Festival, scomparso a 91 anni Le pagine interne, allora cominciamo dalla notizia, da questa tragedia, nuova tragedia della strada Infarto fulminante in moto, muore un 44enne di Valle Foglia Ieri mattina sul versante Umbro, lascia tre figli, 44 anni, dicevamo Gaetano Leone Originario di Matera ma residente a Valle Foglia Ha perso la vita per un possibile attacco cardiaco, almeno così lo hanno ipotizzato I sanitari che sono arrivati sul posto, sul luogo dell'incidente, sarà però la probabile autopsia Dirlo con certezza, sembra che l'uomo soffrisse già di problemi cardiaci Sembra che l'uomo aveva già avuto seri problemi cardiaci Addio a Tittarelli, mecenate del Rossini Opera Festival Aveva 91 anni, celebra i suoi ricevimenti del dopo festival nella sua villa Fu con la moglie tra i pochi invitati pesaresi al matrimonio di Florence L'addio verrà dato in Duomo, il funerale e la cerimonia religiosa Infatti sono previsti per mercoledì prossimo alle ore 11 a Pesaro E sempre a Pesaro c'è questo giro di vite nei confronti dei parcheggiatori abusivi Questa nuova stretta da parte del comandante della Polizia Municipale di Pesarese Galdenzi Che dice è intollerabile la minaccia che hanno fatto al medico il dottor Graziano Piccinini Che è stato inseguito e minacciato perché scattava fotografie E dice ora sono più prepotenti Perché? Perché c'è stato, secondo il comandante della Polizia Galdenzi C'è stato un ricambio tra di loro Ora i nuovi arrivati sono giovani e hanno meno freni inebitori E quindi sono un po' più spavaldi Il Corriere Adriatico Questa è la pagina sempre dell'edizione pesarese Malore fatale sulla moto, muore papà di tre bambini Mentre la fotonotizia è per l'Aquila che torna a Filottrano Con la divisa da campione Stiamo parlando evidentemente del campione di ciclismo Scarponi Accanto alla sua bara i disegni dei figli Il padre del campione dice come faremo adesso senza di te Folla la camera ardente, domani i funerali, il dolore del mondo, dello sport Multe, le Marche, la Regione Marche da record Introiti quasi raddoppiati C'è questo report della Corte dei Conti Nessuno come noi in Italia Da 18,6 balzo oltre a 32 milioni nel 2015 Dunque nelle Marche gli introiti delle multe sono davvero da record Secondo il report della Corte dei Conti riferito al 2015 La nostra Regione ha incassato 32,7 milioni di euro Dai 18,6 dell'anno precedente Registrando un aumento di oltre il 75% Al secondo posto c'è invece la Campania Con 182 milioni Seguita dal Piemonte Con 179 milioni di euro La pagina di Fano Il monito del Vescovo Trasarti Sulle aperture domenicali dei supermercati Non solo dei supermercati Insomma dei negozi Lavoro festivo da contrastare Secondo il Vescovo della Diocese di Fano Non dà vantaggi ma disvalori Si perdono, secondo Trasarti Il senso della festa E le relazioni curate nel tempo libero L'ampliamento degli orari Non fa aumentare i consumi E le aperture domenicali Spostano gli acquisti verso i supermercati E ad anno dei piccoli negozi Le spiagge Siamo sempre sulla cronaca Sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico Le spiagge accolgono già i turisti Stabilimenti aperti in anticipo Tra 25 aprile e 1 maggio Diverse concessioni hanno avviato la stagione Le scogliere recuperano metri di litorale Resta la preoccupazione però a Sassogna Per il tratto verso la diga Forane Ha rimasto scoperto E sotto invece c'è un intervento Di Letizia Conter di Fratelli d'Italia Che chiede al Comune di intervenire Per eliminare questi bivacchi di nomadi Nell'area di sosta per camper Siamo sempre a Fano In via nei pressi del parcheggio di Via Kennedy Vicino al cimitero urbano Il cimitero centrale Che ricca, vedete, i segni nella fotografia Di presenze stanziali La pagina di Urbino invece è Sul dopo visita del Ministro del Rio Il Ministro del Rio che ha fatto visita a Pesaro Ha fatto degli annunci Gli annunci del Ministro Soprattutto sulla storia infinita Della Fano Grosseto E sull'eventualità del ripristino A fini turistici della tratta ferroviaria Fano Urbino Hanno fatto sobbalzare dalle poltrone Più di un primo cittadino dell'entroterra E non solo Tra l'altro sulla Fano Urbino Il Ministro non l'ha mai citata Anzi Del Rio ha fatto chiaramente capire Che la Regione ha concordato con il Ministero Fondi garantiti Ma per la orte falconare Quindi sulla Fano Urbino Neanche a pensarci Sotto invece Sempre dalla pagina di Urbino Abbiamo messo anche la freccia Con un cerchietto giallo Indovinate che cos'è quello lì sotto Top, un topino Un topolino Che era spasso tranquillamente Fra i tavolini del Centro Storico di Urbino La denuncia Così come la fotografia È di Carrabs Che adesso parla di deratizzazione assente Che diventa a questo punto necessaria E urgente Il ritorno a casa dell'Aquila Figlio mio come faremo Il dolore dei genitori di Scarponi Oggi è peggio di ieri Strazio infinito I disegni dei gemellini E la divisa da gara Folla la Camera Ardente Prima a Torrette E poi a Filottrano Veglia Di preghiera E poi i funerali Domani Attese 6-7 mila persone Dalla Valle del Cesano Vino e Birra Un gemellaggio Che capovolge I luoghi comuni Un gemellaggio Tra il paese Di Serra Sant'Abbondio E una città tedesca Delegazione serrana In questi giorni In Germania Per gli accordi Propedeutici Da Senigallia invece Hanno chiuso Gli accessi in spiaggia Scoperte subito Le prime Irregolarità Dopo le segnalazioni Scattano i controlli Di Capitineria E Vigili Urbani Le violazioni Nei tratti Periferici Vedete Queste hanno chiuso Come se fossero I proprietari Del mare Della spiaggia I concessionari Insomma Non è così che funziona E comunque Verranno giustamente Sanzionati Alla guida La sfida Spareggio Con il Modena Risultato finale Zero a zero Sempre più in salita La strada per evitare I play out Fioretti dal ventesimo minuto Della ripresa Infila la porta Emiliana Ma l'arbitro annulla Per un fuorigioco Dubbio Mentre Per la palla a volo Questa è la settimana Della Lube Domani Sabato e domenica Tre partite Di fondamentale importanza Per il club Civitanovese Prima l'esordio Scudetto Con Trento Poi Perugia in Coppa Sperando in una Domenica bestiale C'è un po' di Fano In tutto questo Perché per esempio Trento è allenata Da un fanese Insomma Quindi c'è Fano In tutta questa Palla a volo Di massimo livello Poi sotto invece Lisa Fano Risale in Serie C Travaglini Ascoli Cantarini Iesi Disputeranno L'ultimo play out Per evitare La retrocessione In D Rompete le righe Per netpoint .com E Tecnobank Dunque Lisa Fano Sotto invece La volley game Falconara Complimenti a tutti Noi ci fermiamo qui La rassegna stampa È finita Torna domani mattina Come sempre Alle 7.30 Questo è il numero Invece Di telefono Il cellulare 338 49 68 250 Da utilizzare Per le vostre segnalazioni Grazie per averci seguito Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con occhio alla notizia Buona giornata a tutti Per le vostre segnali Per le vostre segnali Per le vostre segnali Per le vostre segnali